Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Stan, vi do il benvenuto qui al canale siamo qui su farmissimmethod 2019 in una app a Nomazland, riprendiamo dal precedente gameplay sto continuando a raccogliere l'erba con la mia imballatrice, sto facendo balle per il biogas per andare a fare insilato e per poi andarle a vendere il biogas. Nel precedente gameplay ho iniziato a sistemare questo campo e dobbiamo finire di raccogliere questa erbetta perché era un peccato perderla visto che era già qua per cui tanto valeva raccoglierla poi come potete vedere ho inserito l'agricoltura di precisione anche in questa mappa anche se avevo i terreni tutti già belli che sistemati diciamo che andiamo a vedere anche in questa in questo punto in questa mappa come può venire come può risultare il terreno e che terreno abbiamo anche qui no allora sicuramente inizierò a mappare il terreno per poi andarmelo a fare off camera al precedente gameplay abbiamo preso anche tutti i cavalli qua la stalla è al completo questo non si sa dove stia andando comunque vabbè se non gli piace ma perché misteri a no è giusto invece no no era giusto era giusto altro che è una variazione di 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 percorso che non avrei pensato vabbè si stavo dicendo che abbiamo preso i cavalli nel precedente gameplay e abbiamo riempito la stalla e l'unica cosa che stavo per dirvi si è che è che quasi a posto che niente mi andrò a mappare tutto il terreno della nomes land che ho ed è un bel po devo dirvi in pratica di tutto il campo adesso vedremo come ne cosa ne uscirà speriamo in bene me lo ci me lo faccio io off camera poi vediamo qua cosa creare e cosa fare non lo so ancora se creare un campo o o qualcos'altro vedremo successivamente anche perché stavo per dirvi i terreni sono in fase di crescita e mi rompe un po' perderci anche perché la mia idea sarebbe quella di aumentare le stalle che mi sembra un po' vediamo intanto credo che partiremo con una stalla dei cavalli visto che è quella che porta più i frutti diciamo allora andiamo a samsu varie e e e e se lo trovo eccolo qua lo andiamo a nolleggiare pertanto una volta usato non mi serve un trattore che non sia in uso tipo questo ok ecco cielo qua bello e carino e andiamo sui terreni perfetto eccomi qua in farm allora con io direi di cominciare subito da questo terreno qua e a questo punto non mi dice niente e si vedete che anche lì in mappa non so sinceramente quale sia il punto migliore però presumo che posso andare un po' più avanti e stare un po' più all'interno magari ecco proviamo così abbassa b ok eccolo perfetto vedete che ha preso quello che serviva a me ottimo ho notato che bisogna proprio stare precisi perché non è che offre qualcosa in più e ripeto secondo me era più funzionale se potessi scegliere tra il quadrato e il cerchio perché così a meno che non abbiano aggiornato la mod ma non credo ok abbiamo fatto i nostri tre prelievi tanto il puma ha finito inviamo tutto al laboratorio per il momento allora questo lo fermi chiudi e scarica già scaricato puoi anche chiudere tanto non mi serve più ok i campioni sono arrivati adesso andiamo subito a vedere allora torniamo sul massey eccolo qua la prima lettura è che abbiamo un franco e un argilloso limoso sarà una bella esperienza questa va bene allora ragazzi io credo che intanto prima di lasciare di andare avanti con la con il sondaggio del terreno io vi invito come sempre se non avete ancora fatto e vi ricordo di iscrivervi al canale mi raccomando per supportare video serie e quello che sto facendo lasciate come sempre un bel pollicione su canale qui di milioni like commentate condividete e giù in descrizione trovate tutti i link per supportarmi con le piccole donazioni e seguirmi trovate telegram e discord mi raccomando allora io credo che il piano è questo mi mappo tutti i terreni che che ho che sono un bel po che ci vorrà anche un bel po di tempo poi andremo a andrò a raccogliermi tutte le balle che sono lì sopra per andarle a portare al biogas e andarle a vendere poi andrò avanti col tempo perché dobbiamo cominciare anche la vendita del dell'insilato dobbiamo anche iniziare la vendita di sto insilato perché sennò qua va a finire che non facciamo più niente perché ormai vediamo ormai devo andare avanti col tempo perché sono non fermento è un po che sono fermo e niente io mi faccio queste due tre cosette qua e poi ci vediamo appena ho concluso e stabilito una situazione decente ok allora c'è voluto un bel po di tempo però alla fine credo di essere riuscito a mappare la situation qua e allora questo è il risultato abbiamo quasi tutti quasi tutti e quattro i tipi di terreno si uno due tre e quattro esatto li abbiamo tutti abbiamo l'argilloso limoso il franco il franco sabbioso e sabbioso franco detto ciò i ph io credo che siano tutti da risistemare come sia la concimazione per cui questo lo stacchiamo e andiamo subito ai ripari con la fertilizzazione la rifacciamo che l'ho rifatta nel gameplay l'ho fatta nel gameplay precedente però come tutti ben sapete con sta storia qua questa precision boost qua il precision farming creano un bel po un bel po di disagi per il momento allora io eccolo qua vedete mi ha dato l'accesso al terreno vediamo se e invece no e invece no aspetta un attimo perché voglio la calce viva io prima prima la calce viva queste sono le balle che ho raccolto che sono 9 mi sembra da andare a vendere anche al biogas e devo fare andare avanti il tempo ancora una ancora perché purtroppo bisognava fare queste operazioni qua pensavo di fare andare avanti il tempo e tutto ma invece mi sono un po illuso perché purtroppo ok se andiamo all'interno lui non vede i singoli terreni ma vede tutto il terreno e per il momento come potete vedere le analisi mi sono costate qua 1.000 euro qua 400 qua 350 qua 800 e qua 1.100 si insomma non è che siano gratuite allora cominciamo da questo meglio cominciamo da qua in teoria non dovrei far danno esatto eccolo qua vai ok perfetto come potete vedere giù nella mappa la cosa si migliora sicuramente le caratteristiche del terreno allora ci vorrà un bel po' anche per effettuare questa operazione anche se è semplice purtroppo la devo fare su tutti i terreni e anche perché volevo farla prima di fertilizzare così poi col fertilizzante andava a togliersi l'unica cosa bella è di sta cosa qua è che fa apparire i terreni sulla mappa sulla mini mappa lì giù a sinistra dovrebbe iniziare a lavorare su auto esatto eccolo lì vedete più 0.25 devo dare una tonnellata e 75 per ettaro dovrebbe cambiare come valore 0.375 qua ne vuole di più qua ne vuole un po' meno qua andiamo verso un ph 8.5 qua ne vuole di più insomma l'unica cosa che io posso fare finché questo va a vendere io direi di andare a vendere queste balline qua che già ci siamo a questo punto perfetto perfetto allora vediamo un attimo di perché sono 246 esatto io ne posso far stare solo un po' di litri credo che possiamo anche ok 60 allora vediamo un attimo se il terreno è quasi a posto ok credo che ci siamo qui siamo a posto allora partiamo da qui ma mi arancio io a mano perché ho già capito come funziona che va che perdo tutto il raccolto allora ci sarebbero anche le uova da vendere però in questo momento aspettiamo allora vediamo se mi lascia fertilizzare se ok come potete vedere ce ne vogliono una bella quantità qua eh perché mi dice la coltura l'unico problema è che la coltura non necessita di ulteriore concime ah bene per non dire qualcosa di peggio ah scusami qua si e qua no allora vabbè qua sembra di si che funzioni eh no 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 questa non questa non l'ho capita come mai lì ma perché qua che 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 qua c'è eh semi di soia sta a vedere che nei semi di soia vabbè vabbè comunque stiamo apportando eh il 180 180 kg per ettaro e ora torniamo qua eh finiamo qua però mi disturba che non possa fertilizzare il terreno ok anche qua accetta calceviva beh dappertutto dovrebbe accettare calceviva l'unico problema è questo esatto i miei i miei operai qua che si schiantano vedete che qua mi fa fertilizzare al 200% perché il terreno è franco e argilloso limoso credo che il terreno migliore sia proprio questo secondo me è una cosa che devo ancora verificare perché e qua che balla c'è di fieno a erba ah una balla d'erba vabbè aspettate il biogas non sono più andato eh esatto lo facciamo a mano perché sennò rischiamo rischiamo di combinare guai perfetto qua il gaffinip a fortuna cerchiamo di tirar dritto me li passo tutti tanto ormai vedo che la calceviva va giù molto lentamente rispetto alle altre volte allora qua devo ancora seminare o è seminato eh esatto devo ancora seminare qua allora allora ho ripreso in mano il lo spargi fertilizzante devo dire che ne va usa più fertilizzante che calceviva la coltura non necessita nessun ulteriore concime non c'è niente disseminato per cui vabbè tanto lo lasciamo qua torniamo al nostro spargi calce e continuiamo cerchiamo di finire almeno ok per il momento mettiamo l'operaio e cosa dovevo fare io beh allora in pratica facciamo riepilio un attimo della situazione che è davvero in pratica di tutto quello che ho a coltura sono riuscito a fertilizzare solo il 25 in pratica si capisce bene perché e comunque vabbè il resto è tutto a calceviva siamo a posto e va bene non è perfetto allora c'è una richiesta elevata a filanda 1.6 però non so se è il valore massimo allora finiamo qua di spargere la calceviva se lo sapevo non mi sembrava non mi ricordavo di aver seminato qua pensavo di non avere di non averla iniziata neppure la semina io qua difatti va bene diciamo che tutta la calceviva ci è bastata per finire tutti i campi vabbè non richiede effettivamente evidentemente i semi di soia non richiedono di essere fertilizzati qua siamo tranquilli non c'è nessun problema vabbè se qualcuno sa qualcosa a riguardo di questi semi di soia mi faccia sapere allora vediamo di concludere la giornata e io credo andiamo avanti ancora 216 mila euro dal biogas abbiamo fatto alla fine io ci riprovo perché mi rode troppo non poter fertilizzare vabbè io non lo so come sia come sia possibile una cosa del genere qua è pronto per la raccolta credo anche qua esatto allora l'unica cosetta che devo fare però prima è sistemare gli animali perché è un po' lurida la situation non so se necessitano di pulizia i cavalli non mi ricordo più no però necessitano di avena e tante belle altre cosette mi si è buggata la pulizia secondo me vabbè allora che dobbiamo fare oggi adesso che possiamo fare qualsiasi cosa vediamo questo magheggio qua della non possibilità di 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 fertilizzare i semi di soia perché se se è così siamo messi un po' malino eh ah ma qua c'è anche l'erbaccia però ah bene bene una cosa mi è sfuggita iniziamo la raccolta allora vediamo un attimo perché allora stiamo raccogliendo il 115 il 125 per cento senza aver fertilizzato per cui a sto punto i semi di soia sono la miglior cultura ma chi ci capisce qualcosa e che terreno c'era qua allora eh sì vedi franco e sabbioso ah no ma allora mi sbaglio io vabbè forse mi sto sbagliando io allora il ph lì è 6,25 ed è franco sabbioso il ph franco sabbioso è 6,5 e io invece ho 6,25 per cui necessiterebbe di calceviva ma ogni volta devo darci calceviva ok sembra che anche da qui stia io ricavando il massimo ah vedi qua ricavo il 90% e che terreno è? argilloso limoso è il peggio terreno che si possa trovare ah ok più in su è buono più in giù è cattivo avrei detto il contrario beh per fortuna allora che abbiamo solo quel pezzettino lì tutto il resto dei terreni è ottimo quasi direi comunque io sta storia qua della calce del fertilizzante non l'ho capito io eh va bene poi bisognerà capire se effettivamente servirà ancora calceviva oppure no questo io non lo so vedremo prossimamente allora con questa lavorazione con tutti i processi compiuti per quanto riguarda la precisione l'agricoltura di precisione io per il momento mi fermo qui vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia come sempre vi ricordo e vi invito se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale attivando la campione delle notifiche per supportare i video che faccio e il canale in sé e vi ringrazio lasciate come sempre un bel pollicione su che andate qui nei milioni di like commentate e condividete inoltre tutto giù in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola donazione trovate il link di disco e telegram seguitemi anche lì noi ci vediamo al prossimo gameplay ciao a tutti e grazie per essere qui in mia compagnia e alla prossima ciao ciao ciao